Hi! Benvenuti alla nostra nuova lezione d'inglese. L'argomento di oggi è il PAST PERFECT. Prendiamo nuovamente la nostra linea del tempo. Come abbiamo visto precedentemente, nel momento del presente abbiamo il PRESENT SIMPLE, nel momento del passato il PAST SIMPLE. Vediamo quindi dove andremo a collocare il PAST PERFECT come tempo verbale. Il PAST PERFECT verrà collocato qui. Quindi, come possiamo vedere nella nostra linea del tempo, il PAST PERFECT non è altro che un'azione che si è svolta in un momento del passato precedente ad un altro momento del passato. Sembra complicatissimo, ma in realtà non lo è. Vediamo subito un esempio. Quando sono arrivato al cinema, il film era già iniziato. Suddividiamo questa frase in due parti. Quando sono arrivato al cinema. Momento, passato, finito, PAST SIMPLE, quindi. Quando sono arrivato al cinema. Il film era già iniziato, quindi è un'azione precedente al momento in cui sono arrivato al cinema. Questa frase verrà tradotto con quello che in inglese si chiama PAST PERFECT. Quindi, when I arrived at the cinema, the film had already started. questa costruzione non è altro che il PAST PERFECT. Il PAST PERFECT dunque si costruisce con soggetto più had più participio passato. Forma interrogativa. Had più soggetto più participio passato. Forma negativa. soggetto più hadn't più PAST PERFECT. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto al prossimo video. THANK YOU! BYE! 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 BYE!